Buongior ragazze, buongior ragazzi e benvenuti ad un nuovo vlog! So che vi sono mancati tanto, ve li chiedete tantissimo i vlog, quindi eccone qua uno per voi. Qui ci sono i gattoni, che anche so che vi mancano tantissimo quando non li vedete nei video. Qui c'è gatta Stellina. Ciao! Ciao! Più invecchi più diventi chiacchierona! Sì, sì! Ciao, patatina mia! Ciao, patatina mia! E qui c'è il vostro gattino, tutto bianco e un po' corancione preferito! Il gattino più bello di tutta l'Olanda! Sei tu? No! Amore mio! Amore mio! Tanti baci, tanti baci, tanti baci! Oggi inizio questo video già vestita e truccata completamente che cosa abbastanza rara nei miei vlog. Di solito l'inizio dei miei vlog è io a letto in pigiama appena sveglia la mattina, quindi ma oggi avevo diverse cosine da fare stamattina e poi sono andata direttamente in stazione a prendere la mia amica Laura che si fermerà qui da me cinque giorni. Adesso è nel mio studio perché ha una diretta che durerà circa un'ora, quindi io nel frattempo sto lavorando anch'io sul computer, ci sono diversi contratti che devo rivedere e poi penso che usciremo anche se oggi il tempo non è che sia proprio una meraviglia. È abbastanza nuvoloso e ci sono tipo 15 gradi, però sicuramente usciremo un pochino questa sera a brindare perché è veramente tantissimo che non la vedo. Penso dal, ormai sì, dal 2017 che non la vedevo, cavoli, tantissimo. Nel frattempo volevo farvi vedere perché mi è appena arrivato questo pacchetto da Etherea, quindi volevo fare l'unboxing con voi. Eccolo qui il pacchetto di Etherea, sono tutti cosmetici naturali, un brand già molto famoso ed è da un po' che ho iniziato a lavorarci, hanno veramente dei prodotti con inci ottimo e mi piace tantissimo anche la filosofia di questo brand. Ad esempio qui mi hanno scritto una citazione di Albert Einstein, guarda profondamente nella natura e capirai tutto meglio. Hanno sempre delle citazioni bellissime e molto sagge, ma andiamo a spacchettare, andiamo a fare questo unboxing assieme perché sono molto curiosa di vedere, già penso di sapere che cosa c'è all'interno perché stavo aspettando che mi arrivasse l'ultima novità, che mi arrivassero le ultime novità. No vabbè, questo pacchetto è una meraviglia, mi hanno spedito un sacco di cose magnifiche, allora mi mettono sempre qualche extra nei prodotti, veramente li adoro e qui mi hanno spedito, no vabbè, è un fiocco per capelli, stupendo. No vabbè, poi ci sono, di solito mi mettono, sì ci sono anche le caramelle, mi mandano sempre i prodotti con un sacco di lecca a lecca, caramelle, io poi queste le adoro. E qui finalmente mi sono arrivati ragazzi i nuovi solari del brand che non vedevo l'ora che uscissero, in particolare come sapete non vedo l'ora di utilizzare la crema viso protezione 50 che io uso sempre, sempre tutto l'anno ma naturalmente soprattutto in estate e questa è, so che è molto leggera, si può utilizzare anche sotto al trucco. C'è naturalmente oltre alla protezione 50 che è quella che vi consiglio, c'è anche la protezione 30, in realtà le varie protezioni cambiano soltanto perché ti proteggono un pochino più a lungo, cioè va bene anche applicare la 30 però un pochino più spesso rispetto alla 50 e l'effetto è lo stesso, l'importante è proteggersi e riapplicare la crema solare mi raccomando e questi sono molto interessanti come solari perché tra gli ingredienti naturali c'è anche il bioliquefatto di bucce di pomodoro che ha una fortissima azione antiossidante. Naturalmente ci sono anche i solari per il corpo, anche questi sono molto curiosa di andare a provare, non bisogna mai utilizzare solari che già abbiamo utilizzato l'anno prima ragazzi perché il fattore protezione si riduce e rischiate non poco quindi mi raccomando sempre comprare solari nuovi per la stagione, qui abbiamo appunto la 50 per il corpo e la 30 per il corpo, queste sono le Sun Body Lotion appunto a protezione alta e media. Anche queste naturalmente contengono ingredienti naturali, contengono l'estratto, so che contengono l'estratto di carota, si che naturalmente aiuta ad intensificare la bronzatura e a farla durare di più e poi altri ingredienti naturali dalle proprietà lenitive antiossidanti quindi veramente gli inci di questo brand sono spettacolari. Poi c'è anche l'air protector, io amo quando i brand dedicano prodotti alla cura, alla protezione dei capelli durante l'esposizione solare, quindi sono molto curiosa di andare a testare, avrò modo presto di testare i solari, ma non vi aggiungo altro. Contiene olio di fico d'india ed estratto di carota che proteggono dall'azione disseccante dei raggi solari e dagli agenti esterni. Mix di oli idratanti e ristrutturanti, fantastico ragazzi, mi raccomando specialmente se avete i capelli lunghi è molto importante andarli a proteggere, non dimenticate il fattore protezione per i vostri capelli, specialmente sulle lunghezze e sulle punte e poi naturalmente abbiamo anche la after sun body lotion, questo è il dopo sole della linea sea and sun e so che contiene degli ingredienti pazzeschi, vediamo, contiene olio di cocco, olio di avocado, burro di karité, wow, e vitamine A, C, E ed F, è fantastico, mi raccomando non schippate mai ragazzi il dopo sole dopo che appunto siete stati al mare perché è molto importante per andare a reidratare la nostra pelle che veramente tra virgolette soffre quando prendiamo il sole, è molto importante quindi date un'occhiata ragazzi, io vi lascerò il link al sito di Eterea qua giù nel box informazioni andate a dare un'occhiata a questo brand se ancora non lo conoscete perché hanno prodotti con ingredienti veramente fantastici e vi ricordo che è anche un brand 100% made in Italy Dove siamo? Questa è la mia amica Laura, ciao, dopo tantissimo tempo ritornata ai miei contenuti cin, facciamo cin anche in diretta, cin abbiamo preso, non avevano il prosecco, ma dimmi tu, si può, si può avere un posto che io sono già brilla dove non c'è il prosecco ragazzi come lo facciamo l'aperitivo? Io non lo so comunque cin cin, non so che cosa sia, ma è un bianco, un bianco, non sparkling stiamo venute a mangiare sushi in questo ristorante guardate che bello, è gigantesco Adesso siamo sedute là Ti piace? Mi piace Che gigantesco Niente Laura è piacevolmente stupida Io pensavo fosse tipo VX Perché in realtà qua non è neanche Non è neanche tra quelli più rinomati Fighi Il mio trucco ormai è Vabbè Io bevo un bicchiere di vino E sono in condizioni pietose Non è possibile questa cosa Veramente No veramente tutto quel viaggio E tutto sei mille e molte meglio di me Cioè boh vabbè che è anche sto fano qua Non è che sia proprio il massimo di fame Adesso praticamente Abbiamo fatto il nostro ordine Che erano 5 piattini a testa e sono fatto 4 E adesso dobbiamo aspettare 5 minuti Poi possiamo fare un altro ordine Così intanto ci facciamo portare un sacco di roba Voglio far vedere No aspetta come facciamo a vedere quello che abbiamo preso Non si può No non si può far vedere No fa niente Fa niente Allora è partito Sì 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 è partito Sì perché vedi che mi dice già 2 su 5 Quindi questo se ordiniamo adesso sarà il nostro secondo round Praticamente Mamma mia cazzo Facciamo vedere anche dove siamo ragazzi Siamo al sumo sushi e grill Che è un all you can eat No è vero molto carino Ok questo è il nostro secondo round Io ho preso Non ho preso due Ma non è tutto Ne hai presi tu uno Aspetta io ho preso No tu ne hai presi due Due Poi hai preso tre Però quello di prima Quattro Sì No aspetta No 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 io ne devo togliere uno perché io te ne ho preso uno a te No aspetta No io devo tornare qua a togliere questi No ma questo l'avevi preso prima uno No 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 sia zero Adesso ne devi scegliere un altro Ma io non voglio più niente Ma come non vuoi più niente Ma che già ci sta arrivando la roba Thank you Grazie Queste sono le crocchette di patate Vuoi assaggiarla? Allora le hai prese tu? Sì Ma puoi prenderla Non ti ho problemi Non possiamo prendere quante vogliamo Oddio se non vuoi aggiungere niente Possiamo ordinare così Però secondo me poi c'hai fame Cioè che ti fai un round Un round e l'altro manco pieno Ma no dai Speriamo qualcosa di diverso No andiamo sempre sui Sui roll Infatti di macchine hanno tanti All'aspetto Qui hai forse il salmone fritto Che dovessero E io ho preso questo col Philadelphia Salmone Philadelphia Ho preso questo Sì questo con l'insalata di tonno Ma con la maionese che boh Non mi fa impazzire Ma non si sente tanto Non lo so Sempre perché non mi ricordo Questo ho preso Questo è quello che ho preso prima Quello è il California Allora prendo pure io quello No l'ho tolto Sì ok Vai place Ok Dovevo prendere la pasticca E poi abbiamo Lattoso Perché ma stai male se no Veramente Sicurezza Se no mi confio E abbiamo Se ce l'ho dietro E abbiamo Ok Volevo far vedere quello che abbiamo preso E allora abbiamo preso Ma tu non le prendi le pasticchette? Ma non sei intollerante? Sì infatti a volte sto male E quindi Dile Ok Thank you Poi abbiamo preso Sì abbiamo preso Io ho preso i gamberoni fritti Poi ho preso il roll con l'avocado E spero che questa sia insalata di tonno E poi Laura ha preso l'avocado Gunkan L'insalata di sashimi I mini spring rolls Che sono i mini Involtini primavera E poi abbiamo preso due roll con salmone E Philadelphia Che qui si chiama cream cheese Ma è in Philadelphia E queste sono le cosine che ci sono arrivate E l'actiges E l'actiges Siamo già molto provate Ho sfigato Io ho sbagliato l'ordine Allora qua non ce l'ha scritto Era costantissimo Ma come la morte nera E nel mio fila delfia Non ce l'ha scritto Che c'erano le erbette Che non ti ho piaciuto per niente E poi Sì questo era una specie di insalata Di sashimi che è piccantissima Non sappiamo come fare E poi io ho preso i gamberoni fritti E poi abbiamo questo Gunkan con gunkan Non lo so Alga, avocado e maionese Ce la faremo? No Questo sicuro no Guarda Ce li portiamo via Eccolo Ok io non so come Non mi è ben chiaro Però praticamente ho ordinato Tipo sei nigiri Conte erano sei nigiri No ma sono sicura che non l'avevo No Boh me li hanno portati Io non lo so Ce ne ho ordinati tanti Ma non così tanti No Comunque ragazzi Sto per finire l'ultimo nigiri Non ce la faccio assolutamente più Quindi veramente Mi sto sforzando Una roba incredibile Io ordino sempre troppo Siamo sopravvissute al sushi Io sto rotolando letteralmente Ma adesso Ci siamo rimaste malissimo Perché hanno chiuso tutto Cioè tutti i bar Tutto quanto Ci hanno praticamente lanciato fuori Io non lo sapevo Ma effettivamente alle 10 Chiude tutto Ok evidentemente Non esco abbastanza Fino a tardi Sì A parte che Laura Si è appena innamorata Del tizio che ha fatto così Del tizio che ha fatto così No perché lui ci ha fatto così Io non l'ho ben visto Tu eri tipo Così E dopo un'ora Tu gli hai fatto E lui Eh sì Eh no vabbè C'è da dire che sono molto belli Gli olandesi Eh sì Specialmente se ti piace Il tipo biondo Occhi chiari Tipo olandese E se ti piace il tipo olandese Ti piaceranno gli olandesi Giustamente E adesso niente Praticamente Volevamo farci una Super serata alcolica È tutto chiuso È tutto chiuso E stiamo tornando a casa Passeggiando Abbiamo trovato un gatto In vetrina Ciao micio Ciao micio Non mi cada Questo è proprio il negozio Per me che sono intollerante Ciao micio Sì questo è il negozio Per gli intolleranti All'attosio Perché queste sono formaggi E il gatto che fa la guardia Ciao micio No è troppo interessato A guardare qualcos'altro Non so cosa ma Qualcosa sto guardando Poi qui è tipica come cosa Ci sono un sacco di gatti Nelle vetrine Sono cagata addosso Per cosa Ma che collasso Madonna Ma sembrava fin Cioè vabbè era capito Cioè che cazzo è No vabbè Ma perché si muove Ah c'è una specie di motorino Che infarto No vabbè Ah sì è quello che gira Capito Sì ma fa paura Sì ma fa paura Cioè è È orribile Sì esatto Cioè io non la comprerei Laura che è una bravissima fotografa Dovete sapere Le becca sempre È vero Le becca sempre i posti più belli Infatti devo dire che il cielo oggi con queste nuvolette rosa Molto molto bello Qui sul canale A parte che fa un freddo terribile ragazzi Voi probabilmente non lo saprete Fa veramente tanto freddo Che ore sono? Sono le 10 e 25 ragazzi E questa è la luce delle 10 e 25 Eccolo Bellissimo A parte i miei capelli che sono terribili in questo momento Però sì 10 e mezza quasi E c'è ancora tantissima luce Adoro Adoro questa cosa Ok mia famiglia è passato un po' Ma abbiamo passato tutta la serata a chiacchierare E adesso è veramente molto molto tardi Comunque Volevo farvi solo vedere Che oggi per la prima volta Ho indossato il nuovo maglioncino Di Chanel Che avete visto ieri nel video haul E mi è piaciuto tantissimo È molto comodo Morbido E sì Insomma è perfetto per queste serate qui Che non sono caldissime Quindi ci sta E niente ragazzi Io adesso vi do la buonanotte So che questo video non sarà lunghissimo Ma spero comunque che vi sia piaciuto Adesso in questi giorni Seguitemi anche su Instagram Perché abbiamo diverse cosine in programma Quindi vi metterò magari storie Magari qualche post su Instagram in più In questi giorni Io adesso ragazzi vi mando Un bacio grandissimo Come al solito vi abbraccio Siete pronti per l'abbraccio? 3, 2, 1 Abbraccio forte, 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 forte Quindi un bacio grandissimo E a presto Ciao Ciao